Continuare sul percorso di domenica scorsa. La Bielese sa che per centrare la tanto attesa promozione in Serie D, gli errori non saranno più permessi. I 5 punti, che separano i Lanieri dallo Stresa, non sono pochi. I ragazzi di Mister Rizzo hanno una gara in meno, quindi da 5 possono passare a 2, ma c'è sempre da sperare, purtroppo, in un passo falso dei rivali. Sia Bielese che Stresa affronteranno domenica un turno casalingo. Agnesina e compagni ospiteranno sul sintetico di corso 53esimo fanteria la Aliceso Rizzonti, per quello che si può definire un mezzo derby. Incroci sempre sentiti con le compagini vercellesi, in particolare questa, trasferta con distanza davvero minima per la compagine con sede tra Alice e Ciliano. All'andata, in un fresco infrasettimanale, al Salussoglia di Alice, la Bielese si impose agevolmente 3-0. Era un altro periodo, i bianconieri avevano molte più certezze di adesso. Scienza, Namad e Panatti posero le firme in calce alla vittoria. Scienza e Namad che sono stati decisivi anche domenica contro il Leverpania, ed è probabile che almeno uno dei due partirà titolare. Non mancano le alternative a mister Rizzo, che ancora una volta verrà sostituito dall'allenatore della Juniores Martin Pellerei, per il secondo turno di squalifica dei quattro combinati dal giudice sportivo. Un pareggio e tre sconfitte consecutive per la Liori, che non vince dallo scorso 19 dicembre ed è attualmente 14esima, pienamente coinvolta nella lotta per evitare i play-out, che quest'anno è davvero combattuta. A disposizione di mister Gianmarco Mellano, ben noto dalle parti di Biella, c'è tra gli altri Diego Giovinazzo, ex biellese, come Giacomo Gila, fratello di Davide Simone, attualmente tra le fila bianconere. Da tenere d'occhio, bomber Massimiliano Fiorenza, miglior marcatore con sette centri stagionali, bandiera della società in cui è cresciuto. L'Ostresa ospiterà invece in casa il Baveno, per il classico derby della Riva Ovest del Lago Maggiore. La classifica non mente mai e i ragazzi di rotolo sono certamente favoriti, ma si tratta di una partita che sfugge ai pronostici. Trasferta difficile invece per la Fulgur Valdengo. Dopo il turno di riposo, i ragazzi di Mister Peritore ripartono dalla pro-eureca di settimo torinese. Squadra solida e temibile che due settimane fa si è tolta allo sfizio di battere la stessa biellese.